Salve a tutti e benvenuti su Plenoctis, io sono Rob e oggi voglio proporvi la mia recensione di Biomutant. Partiamo subito col dire che, come da premesse, il titolo non si rivela essere un buon titolo. Il gioco soffre veramente di tantissimi problemi strutturali, problemi che proprio lo inficiano dalle fondamenta e non gli permettono in nessun modo e in nessun campo di arrivare a quella striminzita a sufficienza, a quella possibilità di essere apprezzato, giocato, comunque di divertircisi che almeno è la questione minima che si richiede affinché un gioco possa comunque essere apprezzabile. Tutto quanto in questo gioco non funziona, non funziona nulla di ciò che gli sviluppatori probabilmente avevano in mente o comunque di ciò che è necessario affinché un gioco sia strutturalmente integro nelle fondamenta. Ma possiamo partire da qualunque punto di vista, partiamo dalla direzione artistica come normalmente facciamo di consueto, vi ricordo che il voto che troverete alla fine è frutto di una media ponderata di quattro indicatori che sono la storia, la direzione artistica, la regia e il gameplay e partendo come facciamo di consueto dalla direzione artistica quello che si può evidenziare è subito un colpo d'occhio che risulta affascinante ed è probabilmente quello per il quale il titolo è stato anche acquistato e come è stato anche venduto nel senso che gli sviluppatori hanno puntato molto secondo me a far percepire questi colori brillanti, questa bellezza esotica, questa bellezza del paesaggio che ricorda in parte magari un Horizon Zero Dawn ma comunque un titolo open world dalle prospettive molto affascinanti almeno in termini di scelte stilistiche ma poi giocandolo effettivamente se si va a vedere all'interno della qualità grafica, delle texture, delle situazioni si scopre che nulla è ciò di quanto avevano promesso. Tutte e tutte quante le texture sono texture a bassissima risoluzione piatte comprese quelle dell'erba che è compatta e si muove insieme ma in una texture praticamente 2D che è veramente brutta da vedere se si va a vedere poi l'erba, ugualmente le rocce, ugualmente gli alberi, ugualmente tutte le altre componenti della costruzione della grafica risultano essere insufficienti sotto gli standard anche secondo me di PS4, io ho giocato il titolo su PS5 ovviamente la versione solo PS4 e è semplicemente una, hanno trovato una maniera per presentarlo dall'esterno quindi non giocandolo soltanto tramite i filmati in maniera che possa sembrare affascinante ma anche addirittura la definizione del pelo di questi animali, la definizione dei nemici, del pelo dei nemici, gli effetti volumetrici sono tutti effetti gestiti con quella rarefazione dell'effetto volumetrico che si vede che non è nulla di solido, che è veramente qualcosa che hanno messo, che sono riusciti a mettere ma che è difficile da gestire e che non funziona, è molto rarefatto, se si va a vedere all'interno del pelo proprio ogni tanto le texture scompaiono, quelle almeno più esterne, non hanno costruito bene, non è l'effetto che ci si aspetta da una texture che dovrebbe rendere delle superfici quindi giusto l'acqua forse un pochino è agli standard di PS4 ma per il resto è tutto sotto l'insufficienza dal punto di vista della costruzione grafica e le scelte stilistiche sì, è vero che il mondo può risultare affascinante, che i colori possono risultare affascinanti ma nel complesso della durata del gioco, delle 35-40 ore che servono per completarlo praticamente quasi al 100% dopo un po' va effettivamente a noia, anche se le aree sono divise, ci sono aree fredde con la neve, aree calde, aree che invece sono tossiche, anche lì dal punto di vista artistico si è fatto poco, a un certo punto addirittura sembra veramente di ritrovarsi di fronte a un pittore che ha mischiato tutti i colori, ha tirato una pennellata, ha tirato fuori una cosa viola stranissima con dei riflessi marroncini, è veramente brutto e si doveva fare veramente molto di più, non è bello, non è bello nemmeno esteticamente, se poi prendiamo il sonoro che bene o male funziona, infatti è una componente a cui ho comunque dato la sufficienza, il sonoro è abbastanza buono e la colonna sonora anche risulta essere abbastanza evocativa, anche se secondo me si è preso molto dal punto di vista delle tracce proprio da altri titoli o comunque si sono riarrangiate tracce di altri titoli come Horizon o Days Gone che avevano queste tracce un po' evocative per l'open world e secondo me hanno fatto semplicemente questo tipo di lavoro, però comunque risulta essere abbastanza corretto e quindi diciamo la parte sonoro e audio è probabilmente l'unica parte a cui darei effettivamente la sufficienza, ma per il resto anche dal punto di vista estetico funziona male, vi faccio un esempio, cioè ad esempio se tu guardi la luna che si muove durante la giornata, si muove a velocità supersonica finendo direttamente sotto l'orizzonte per poi far apparire il sole in una velocità che è fin troppo alta e non rende esteticamente nemmeno i riflessi di luce perché ne becchi uno e poi subito è sparito perché poi c'è notte e poi c'è giorno e anche la pioggia che veramente mi è capitata in 35 ore, 4 volte credo, non è resa del tutto bene anche se non è malissimo, ma addirittura capita che la maggior parte delle volte piova dentro casa, dentro gli edifici chiusi, quindi veramente un lavoro tecnico che è semplicemente visivo e di primo impatto, ma poi per il resto se vai a vedere effettivamente all'interno è tutto veramente molto molto brutto, compresi i disegni e le scelte stilistiche dei disegni dei personaggi che alcuni hanno raccontato come ben fatti, ben vari, gestiti con una particolare idea, secondo me semplicemente sono pochi modelli, abbastanza riciclati, non belli esteticamente non realizzati qualitativamente a livello estetico e anche tutte le componenti di vestiario che effettivamente sono tante e differenziate, finiscono per essere una cozzaglia di disegni che poi finisci per fare veramente un patchwork di elementi che il tuo personaggio non può essere bello a meno che non lo uniformi tu, succede spesso in molti videogiochi di questo tipo, ma comunque non ci sono design belli, eleganti e particolari per cui dici sì, si è fatto un lavoro anche dal punto di vista della ricercatezza degli abiti in modo tale che anche se comunque ho dei malus, non gli abiti più forti da tutti i punti di vista, però comunque crea un bel personaggio, questo non accade, sono tantissime cose messe lì alla rinfusa e da questo punto di vista quindi non funziona. Altra parte che non funziona è proprio la strutturazione del gioco che dicevo in precedenza, perché non è tanto un problema di bug o glitch o di situazioni che non sono perfette dal punto di vista tecnico, che pure ci sono, nel senso che ad esempio prendi la cavalcatura e magari ti incastri sullo spartitraffico delle strade perché non riesci a scavalcarlo, il tuo personaggio lo fa ma alla cavalcatura no e ci si incastra all'interno. La maggior parte delle texture sono tutte compenetranti, quindi anche quando sconfiggi i nemici poi inizi a camminarci all'interno, le stesse armi compenetrano il personaggio, qualche glitchetto c'è, qualche effetto pop-up c'è, anche in alcune situazioni c'è l'acqua che magari arriva da un torrente che però è spoligonata rettangolarmente, si inserisce nel lago e vedi proprio la striscia che si inserisce perché a differenti livelli di texture non è armonizzata bene, qualche calo di frame rate c'è, ma nel complesso non sono tanto questi problemi, perché però si vede che è grezzo dal punto di vista tecnico, ma magari questi sono problemi risolvibili, i problemi sono proprio quelli strutturali, cioè il gioco ti mette di fronte a questa idea, costruttiva proprio, ludonarrativa, di farti affrontare il gioco con questo personaggio che crei tu, gli dai la direzione dal punto di vista delle abilità e dei potenziamenti e delle tipologie di personaggio che vuoi tu e poi lo puoi orientare moralmente su due lati, la luce e l'oscurità, in una storia che è posta in maniera tale per cui tu possa gestire sia le tribù che sono rivali, che hanno visioni differenti di come si dovrebbe vivere in questo mondo post-apocalittico e quindi hanno idee differenti, sia la salvezza dell'albero della vita che tiene tutti quanti in vita e che permette quindi la sopravvivenza nonostante le condizioni che sono avverse e la gestione dei quattro mangiamondo che sono gli animali quasi fantastici, queste bestie quasi fantastiche che stanno minando la solidità dell'albero e quindi vanno gestiti. Ci sono questi tre punti quindi sostanziali dal punto di vista della trama e il tuo obiettivo è quello di decidere le sorti delle relazioni fra queste parti, scegliendo appunto la via del bene o del male anche inizialmente ma con le scelte che fai. Ecco questa premessa che poteva anche essere interessante, il titolo si presenta per essere un gioco sostanzialmente per bambini quindi non avevamo chissà quali pretese dal punto di vista narrativo, non voleva una trama alla Metal Gear, una profondità assoluta, una trama magari un po' più malinconica alla Fallout, va bene la questione un po' infantile posta in maniera tale da essere un gioco per bambini ma a conti fatti anche strutturalmente in questo senso è tutto totalmente sbagliato. La questione luce-oscurità è posta in maniera tale per cui tu non possa fare a meno di scegliere la luce e comunque non tiene conto davvero di quello che tu scegli perché tutte le scelte che tu fai, tutte le linee di dialogo che tu fai semplicemente vengono capite come bene e male in maniera diretta, tu non puoi fisicamente fare il male a meno che non scegli proprio di fare il male, non c'è quella cosa che io ricercavo per cui anche in una storia per bambini tu comunque puoi far scegliere dei percorsi intermedi, delle visioni magari differenti, magari io non sono d'accordo con quella tribù però comunque magari mi c'alleo, poi però cambio idea e faccio un'altra cosa perché penso che a livello di valori che ho in testa dovrei eseguire quello, ad esempio in Mass Effect tu sei sempre sul filo dell'eroe del rinnegato magari perché magari hai opinioni controverse e cerchi di gestirti un po' tutte le popolazioni, tutte le questioni in quella maniera lì no? Non c'è in questo caso perché semplicemente tu ti ritrovi a, se dici qualcosa che potrebbe essere sbagliato automaticamente punti oscurità, dall'altra parte i punti luce ti vengono praticamente elargiti, basta che ti allei e fai le missioni principali perché poi le missioni principali sono di salvezza, cioè per esempio la situazione per cui tu vai a parlare con la prima tribù, la prima tribù ti pone di fronte alla scelta di sceglierla o meno e se non la scegli non la sceglierai, se la scegli invece decidi tutta la tua trama in relazione alla scelta di quella tribù e già così io non ho visto le altre tribù, non so cosa pensano, quindi di fatto mi obblighi a fare una scelta in quel momento e mi poni tutto il resto del gioco proprio su quello. Scelgo la tribù che è una tribù positiva, ha delle visioni positive, segue la luce e via. Faccio un altro dialogo con qualcun altro in cui esprimo il fatto che voglio vendetta nei confronti di un nemico che fa parte del background del nostro protagonista e quello mi dice eh io capisco che tu vuoi distruggere l'albero della vita, ma io non volevo fare quello, io semplicemente volevo vendetta, non volevo distruggere l'albero della vita, ma il gioco comprende che quello è un pattern negativo e quindi ti dà una risposta come pattern negativo, come oscurità e ti porta direttamente in quella linea. Questa situazione è ridicola, mina le fondamenta tutto il gioco e se avviene nelle prime due ore io capisco che tutto il resto del gioco a livello proprio di visione narrativa sta totalmente fuori da qualunque binario e infatti tutta la narrazione per me è totalmente insufficiente, ma non è insufficiente un po', è proprio da zero. La narrazione di Bayou Mutant è da zero. Questo perché? Per vari motivi. Il primo motivo è il fatto che si è scelto di narrare tutto quanto con un narratore esterno che legge tutti i dialoghi, perché ogni personaggio che incontri non parla una lingua conosciuta e quindi va, diciamo, tradotto ma viene tradotto in terza persona, non viene tradotto in maniera tale che si rivolga direttamente al personaggio, viene detto ciò che dice dal nostro narratore e quindi vai lì e lui ti dice, ti dice che vuole vederti, ti dice che è felice di vederti ed è contento di quello che stai facendo. Tutto così, tutti i dialoghi sono in questo modo, quindi già è una perdita di tempo, ma la cosa più imbarazzante di questo è il fatto che se io con il mio interlocutore stiamo parlando di una terza persona, finisce che se quello mi dice, dice di volerti vedere all'albero della vita, sta parlando della persona che ho di fronte o della terza persona di cui stiamo parlando? E questo ovviamente non si può capire, non si può capire perché il gioco non ti permette di comprendere questa cosa. In più tutti i dialoghi sono totalmente senza senso, una serie di parole ammantate una sull'altra per essere il più possibile evocativi ma anche vaghi, ti dirà se raggiungerai il posto allora capirai il tuo passato che ti porterà al futuro. Tutti, tutti per 30 ore, tutti qualunque dialogo non ha senso reale, tu finisci per essere impelagato in una serie di risposte multiple che ti riportano alla stessa frase, allo stesso inizio che comunque non comprendi perché non ha senso e questo è veramente qualcosa di imbarazzante. In più molto spesso il gioco non capisce quello che hai già fatto, ti dicono che dovrai andare a combattere contro un nemico che magari tu hai già sconfitto. Per tutte quante le linee di dialogo, per 30-35 ore si vede proprio che non c'è stato nulla veramente da dire e il gioco non ha nulla da dire, non ha nulla da dire dal punto di vista della trama che è una costruzione banale che non vuole portare a nulla e che non porta a nulla. Non è vera la questione delle scelte perché come dicevo prima tu di fatto finisci per seguire solo la luce e faccio un esempio banale di questo. Trovi dei prigionieri nei vari accampamenti nel percorso del gioco e semplicemente quando parli con loro tu puoi scegliere se eliminarli o aiutarli. Ma ciò non comporta un aiuto fattivo, cioè se tu mi metti che per aiutarli magari devo fare qualcosa che magari mi distoglie dalla strada principale io potrei anche decidere di non aiutarti perché tanto ho da fare altre cose quindi decido di eliminarti per dire. Ma se semplicemente lo aiuti e clicchi lo aiuti, fine della quest lo hai aiutato, punti luce, è chiaro che sceglierò il punti luce. Cioè per fare la via dell'oscurità ti devi proprio impegnare a essere il cattivo e quindi di fatto c'è solo la via della luce posta in maniera abbastanza eclatante tant'è che nonostante io abbia fatto alcune scelte morali secondo il gioco non sempre corrette comunque alla fine ho finito con svariati miliardi di punti luce e pochi punti oscurità. Punti oscurità peraltro dati anche così sempre con una questione morale abbastanza stupida. Poi c'è la visione per cui tu dovresti scegliere quali personaggi portarti poi alla fine del gioco, quali preferire rispetto ad altri. Di fatto tutte quante le linee di dialogo esprimono poi alla fine la stessa cosa, cioè tutti i personaggi ti valutano per quelle tre linee, quei tre pattern che dicevamo all'inizio cioè le tribù, il mi mangia mondo e l'albero della vita e ti esprimono il riferimento a quello che sei come luce o l'oscurità e ti rispondono esattamente sempre le stesse cose chiedendogli sempre le stesse cose e la possibilità di risposta è sempre la stessa. Cioè non c'è nemmeno personalizzazione dei personaggi perché nessuno di loro ha un senso di dice qualcosa, ha davvero una quest secondaria o quest secondaria reali, cioè narrate di questi personaggi che ti possano spingere a scegliere loro piuttosto che altri. Semplicemente non c'è nulla, è una serie di dialoghi che per mandarti in giro per il mondo ha a fare le cose e basta. E quindi cosa si fa in Biomutant? Quello che si fa di fatto è girare per questo posto abbastanza grande, per questo movie world piuttosto grande in maniera che non sia noiosa né frustrante, il gioco è talmente facile, vi dico che diciamo dalla decima ora ho utilizzato un fucile d'assalto che praticamente su un'unica raffica shottavo tutti i nemici e l'ho fatto fino alla fine del gioco, quindi fino al livello 40 del mio personaggio, fino alla 35esima ora che ho messo i 35 per finirlo. Di fatto è totalmente facilissimo, tutte le mosse secondarie, tutto ciò che tu puoi prendere di fatto risulta inutile. Tra l'altro le mosse secondarie secondo me interrompono fin troppo la velocità dell'azione che già di per sé non è velocissima, non è frenetica perché uno dei limiti principali al gameplay è che non si percepisce l'impatto dei colpi, nel senso che le animazioni sono anche sufficientemente buone, sempre con parecchia compenetrazione, un po' di casini vari, però di fatto sono abbastanza buone, cioè sembra un buon combat system in terza persona anche con le armi da fuoco. Ricorda un pochino Darksiders, infatti comunque gli sviluppatori vengono comunque da quella parte lì in parte di THQ e quindi ricorda un po' quello ma stiamo totalmente lontani, cioè se il gioco fosse uscito nel periodo in cui è uscito Darksiders sarebbe comunque molto più insufficiente del primo Darksiders e sono passati molti anni, quindi ricorda un po' quello ma non riesce a essere efficace. I colpi quando colpisci con le armi bianche non arrivano, non li senti, quindi non ti dà la sensazione di stare realmente colpendo e quindi non si crea quella volontà di colpire, di andare avanti, di veramente sentire l'impatto del colpo. Per farvi un esempio, qualunque Dark Souls gioca tantissimo su questo perché ogni Souls-like in generale ha la necessità di fare in modo che tu continui ad uccidere e uccida gli stessi identici nemici e quindi per fare quello deve essere appagante ucciderli e riesce a creare quel senso di appagamento proprio grazie al fatto che quando uccidi un nemico lo senti, sei appagato, senti il colpo che entra, c'è tutta la serie di animazioni ma anche sonoro di effetti proprio sia in interazione col controller che con il sonoro che permettono di sentire l'entrata del colpo e il successo del tuo attacco. Qua non c'è. Tu combatti, ovviamente vedi la barra della vita del nemico che se ne va e capisci che l'hai sconfitto ma non c'è sensazione e questo è totalmente assurdo. Altra cosa dell'esplorazione che risulta essere frustrante dopo un po' insomma noiosa dopo un po' è che di fatto tu ogni luogo che incontri hai più o meno sempre le stesse cose, cioè cerchi sotto i cuscini, nelle case, le cose, ti vengono date miliardi di curativi, miliardi di oggetti che sono inutili perché nel momento in cui tu hai costruito il tuo personaggio per essere efficace in un modo tutti gli elementi inferiori a quello non ti interessano. Ma non c'è nemmeno la necessità di magari romperli per prendere le risorse e costruire nuovi equipaggiamenti. Io non ho modificato nessun equipaggiamento, le armi, giusto l'arma da fuoco l'ho leggermente modificata nel tempo perché prendevo magari qualcosa di migliore, ma per il resto ho solo trovato equipaggiamenti migliori, messi quelli, fine perché il gioco non ti impegna mai per realizzare questa cosa. Anche la questione delle aree che sono tossiche oppure sono troppo calde, troppo fredde o radioattive, che quindi richiedono delle tute speciali, di fatto se tu tutti i punti che trovi, i punti di biorischio, li metti alla protezione da queste situazioni, di fatto non hai nemmeno bisogno di mettere le tute perché puoi andare tranquillamente con quello che hai inizialmente, tanto tutti i punti servono a quello. E se non servono a avere delle resistenze elementali, possono essere utilizzate per avere delle mosse che però di fatto anche quelle risultano abbastanza inconcludenti. Una volta che ne hai prese due o tre più o meno te la cavi. Quindi è veramente pensato male, armonizzato male e non funziona sotto tutti i punti di vista. Il narratore, mentre esplori, continua a dire le stesse identiche cose, le stesse identiche cose, a ripetizioni alcune anche senza senso, come il cielo si sta facendo più grigio, sempre più luminoso, che non vuol dire nulla. Tutto il tempo tu hai questa non sarà un'escursioncina, si fa sul serio, che veramente continua a dirtelo tutte le volte, le montagne sono sempre così bell'ovvie, che sono ovviamente frasi per bambini, per un gioco per bambine, uno lo comprende, ma non me le puoi mettere a ogni cinque minuti. Se combatti con i pugni alla Kratos di God of War ogni tre secondi ti fa pugni d'acciaio, pugni d'acciaio, ogni tre secondi. E poi il gioco ti dice, vuoi togliere il narratore perché magari ti ha rotto le scatole? Eh, vorrei togliere il narratore, ma che ci hai messo a fare? Cioè, che senso ha mettermi sto narratore? Ma fai qualcosa di sensato, ma questo dimostra che non c'è visione. Anche tutti i collezionabili, che sono tantissimi, cioè di fatto le missioni secondarie sono tutte una serie di collezionabili, cioè andare in giro per i posti a risolvere l'enigma, che può essere un telefono, una chitarra, un televisore, un proiettore, sono tutti lo stesso tipo di enigma, tutti totalmente facilissimo, cioè devi spostare tre, quattro cursori per allineare il bianco col bianco e l'arancione sull'arancione per tutte le tipologie di collezionabili e inoltre non c'è nemmeno una ricompensa, nel senso che una cosa interessante poteva essere quella di mi fai trovare un telefono, risolvo l'enigma legato al telefono, enigma poi, dammi una ricompensa, cioè fammi sentire una conversazione, no, quello che avviene è una conversazione nella lingua di quelli che parlano in quel momento, che è guarda, 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 tu non capisci quello che dice, non c'è il narratore che te la spiega, è inutile totalmente quel collezionabili, per 35-40 ore tutto ciò non ha senso, quindi di fatto quello che esce fuori da questo gioco, e gli esempi possono essere tanti, ma comunque come dicevo prima, veramente di coerenza narrativa e coerenza ludica abbiamo veramente poco, i personaggi non tengono conto di quello che hai fatto prima, ti ripropongono gli stessi pattern del discorso, senza che le missioni portano ad altro, la trama è scritta veramente male, non c'è senso di progressione, anche se c'è senso di progressione non comprendi la finalità di quello che stai facendo, nella forza di quello che stai facendo, sì, devo uccidere tutti i mangiamondo per salvare l'albero della vita, fine, ma questo è solo veramente il minimo indispensabile di un gioco di 35-40 ore che non ha null'altro da dire, infatti la trama è ridicola, è appena accennata, non c'è complessità quindi, perché tutti i rapporti con i personaggi e tutte le tematiche presenti, che magari la tematica quella ecologista è il cardine, ma non viene mai messa bene, se tu mi dici sì, c'è stata una società che ha fatto un disazio nel passato, adesso queste sono le conseguenze, dobbiamo difendere l'albero della vita, è finita lì, non ha senso, è veramente accennata, veramente accennata, ma ovviamente è insufficiente, in più come dicevo prima, se ogni dialogo non ha senso, ogni cosa che succede non ha senso, proprio non ha senso il dialogo, non è che è scritto male, dice sì, è brutto, è inconcludente, non porta a qualcosa, vuole dire delle cose ma non le dice bene, non si sviluppa in particolar modo, no, ogni dialogo proprio non ha senso la frase che dice la persona, non ha senso in italiano, non ha senso logico, e questo è veramente drammatico, tutto narrato da un narratore esterno che sta in mezzo alle scatole, ma se lo levi comunque non narra nulla, quindi di fatto veramente, narrativamente è insufficiente, ma veramente tantissimo. La regia, quindi l'idea base del progetto è veramente brutta, perché mi viene da pensare che loro abbiano voluto giocare molto sull'effetto estetico, la fuffa negli occhi, il fumo negli occhi colorato per farti acquistare o fare il pre-order di un titolo che poi a conti fatti non funziona, quindi dal punto di vista della regia anche non sono convinto per nulla della bontà del progetto. La direzione artistica, sì, si può salvare, si può dare una sufficienza, ma davvero nemmeno le scelte stilistiche poi si rivelano belle, perché come dicevo prima non ha senso fornire questa serie di oggetti per modellare il personaggio e anche gli altri personaggi sono veramente bruttini, ricorda un po' gli incroci di Viva Pignata, cioè non è bello. In più il gameplay, ci tengo a dire che non è talmente insufficiente da essere ingiocabile, ma sicuramente è insufficiente, soprattutto per la questione della coerenza di base, cioè proprio della struttura di base. È troppo troppo facile, troppo poco funzionale nel farti fare un'esplorazione sensata che ti dia delle ricompense, quindi questo per forza è insufficiente. Certo, le cose da fare sono tante, ma sono tutte dello stesso tipo, con una mediocre precisione, perché quindi collisioni, colpi che non entrano, movimenti, ad esempio quando chiami la cavalcatura arriva penso a 5 fps, non funziona nemmeno dal punto di vista del gameplay. Quindi il mio voto per Biomutant è di 38 su 100, che è un voto bassissimo, ma che testimonia proprio come abbiano sbagliato quasi tutto nelle fondamenta. Soprattutto la storia è veramente prossima allo zero spaccato, perché si è sbagliato sotto tutti i punti di vista. Si salva per un accenno di trama che comunque esiste e per una minima complessità che è data da quell'idea che appunto dicevamo ecologista, ma a parte questo la narrazione è veramente insufficiente. E anche dal punto di vista della regia l'incoerenza ludica e narrativa che dicevo in precedenza è l'elemento cardine e quindi dimostra un'idea, una focalità di un progetto che forse non ha nulla da dire, anzi sicuramente non ha nulla da dire e che quindi lo trova essere assolutamente insufficiente. Certo la direzione artistica ha sicuramente una velleità che è quella sonora della colonna sonora e un pochino di fascino per la luce e per i colori, ma anche lì tutti i modelli dei personaggi, i vestiti, ma proprio la modellazione, quello che hai di fronte non ha particolarmente senso, non è bello da vedere, anche quello è forse al minimo della sufficienza. Se ci mettiamo una grafica è sicuramente sotto, sotto, sotto gli standard, anche lì abbiamo veramente una sufficienza stream insida e in più il gameplay che non è totalmente distruttivo, si porta avanti, offre effettivamente tante cose da fare ma che sono sempre le stesse, non ha velleità, è troppo facile per essere veramente profondo per durare 35-40 ore ma troppo troppo facile, non facile come è facile Kingdom Hearts 3 ma veramente troppo facile quasi da premo un tasto solo e vado avanti, troppo troppo facile e quindi di fatto quello che esce fuori è veramente un gioco insufficiente. La mia recensione quindi termina qui, voi fatemi sapere se invece l'avete apprezzato, ho visto alcuni che l'hanno apprezzato secondo me per il fatto che di fatto si va avanti nel gioco, si riesce a portare a termine, io l'ho finito in 35 ore quindi di fatto il gioco si fa giocare ma non sono ore qualitative, uno può anche stare 30 ore fermo con le braccia del concerte, non è di certo un passare il tempo in maniera positiva e corretta, si può fare, si fa, non è che hai impedimenti a farlo ma non è certamente una cosa qualitativa, è lo stesso vale per Biomutant che si rivela più che altro essere un gioco che ti metti a giocare mentre magari fai altro, senti conversazioni, senti canzoni, parli con altre persone perché tanto non ha veramente nulla da farti fare, da dire di impegnativo all'interno e questo non può essere che un elemento negativo, però fatemi sapere voi argomentando che cosa ne pensate, se invece anche non vi è piaciuto e lo trovate insufficiente fatemi sapere comunque anche voi perché, se questo video vi piace mettete un mi piace, iscrivetevi al canale per supportarci, vi ricordo in descrizione i link che si riferiscono ai nostri altri social come per esempio quello delle live dove approfondiamo altri discorsi e facciamo anche critica in relazione anche a questo titolo e probabilmente domani ci sarà il Critical Points di Biomutant in cui leggeremo le recensioni di altre testate e anche il canale Telegram dove possiamo approfondire tutte le conversazioni e tutti gli spunti che troviamo in questi video e noi ci vediamo ad un prossimo video.